Odissea nello spazio-tempo. Dalla luna sono arrivato fin sulla terra. E' portato con i bonobo perché i bonobo volevano venire. Ma questa non è una novità. La novità è che l'impero ha decretato lo stato di crisi. L'impero dice che la crisi è partita dall'America e ha contagiato l'intera Europa. L'impero parla della crisi come dell'influenza solina. Ma io non mi fido dell'impero. Io non mi fido dei maiali. I maiali mi hanno detto che devo iniziare una guerra stellare contro l'impero. Ed è per questo che stasera indossano i panni di Jan Solo. L'impero Jan Solo che gli hanno accompagnato.